Ben trovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di mercoledì 22 novembre. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che sono attese condizioni di tempo stabile soleggiato su gran parte del territorio ad eccezione delle regioni dell'alto tirreno e di quelle che si affacciano sul golfo di Genova dove sono attesi deboli fenomeni di instabilità. La ventilazione media proverrà dai quadranti occidentali ed i mari saranno principalmente calmi o a limite poco mossi, soprattutto i bacini occidentali, mentre dal punto di vista termico le temperature risulteranno in aumento su tutto il territorio. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino le condizioni atmosferiche risulteranno stabili e soleggiate su gran parte della regione ad eccezione delle zone interne e montuose dove sono attesi addensamenti nuvolosi. Nel corso del pomeriggio e della sera non assisteremo a variazioni con i cieli che risulteranno ancora principalmente sereni in particolar modo lungo le coste. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.